E vado a tutti ragazzi, carichi come non mai da me e oggi ragazzi, voglio andare alle 10 di notte e domani devo andare a bucare se... C'è praticamente ragazzi, c'è un botto di gente, ma proprio un botto, quindi, non so, mi è venuto a fare questo vlog perché non avevo niente da fare, quindi... Che vuoi? Mi stai dicendo, mi stai dicendo che non filmami perché mi faccio che non stai la borsa, perché non stai la borsa, quindi sono pericolo, non stai la borsa. La mia cugina sta andando da mia zia perché si è presa una cosa verde sopra e voleva fargli vedere a mia zia quanto benedità, maledità gli è fatta da lui, scusate però è vero. Non puoi non dire la verità con la mia cugina, quindi è sempre bello. Ma ragazzi, forse dopo ne faccio un altro, non so, domani quando sarò all'ospedale, perché mi devo fare, non so cosa, ripubblico e ci vediamo, vabbè, bella ciao ragazzi. Grazie.